Questo video è realizzato in collaborazione con la pagina Facebook Serie TV & Soap di cui trovate il link in descrizione. Endless Love, Cara Sedda. Anticipazioni di sabato 16 marzo 2024. Si è fatta sera, e Kemal decide di fare una sosta al mono per prendere un po' d'aria. Intanto, su una barca nelle vicinanze, si sta svolgendo una festa con la presenza di Emir, la sua amante, Enyan, visibilmente annoiata in disparte. Emir riceve la telefonata dal suo rappresentante, il quale gli comunica che Kemal non è disposto a raggiungere alcun accordo per l'appalto. Subito dopo, Enyan informa Emir che vuole andarsene, e lascia la nave su uno scafo, mentre Emir chiama Kemal cercando un accordo. Tuttavia, Kemal propone un incontro di persona per il giorno successivo. Nel mentre, Enyan è quasi arrivata a riva quando un ricordo la sale. Il giorno del suo compleanno, quando cadde in acqua e fu salvata da Kemal. Improvvisamente, decide di infilare il piede in una fune e si getta in acqua. Kemal, presente al molo, si tuffa immediatamente per liberare il piede di Enyan dalle corde. Poi, si allontana sott'acqua cercando di non farsi vedere. Intervengono due uomini che la aiutano, mentre lei chiama il nome di Kemal, convinta di aver visto i suoi occhi. Tuttavia, Kemal rimane nascosto su una barca nelle vicinanze. Poco dopo, Enyan sale in auto, sfuggendo all'assalto dei giornalisti, e si ferma davanti alla casa di Kemal. La mente corre indietro di cinque anni, quando aveva segretamente assistito alla partenza di Kemal per Zonguldak. Era poi stata scoperta da Zeynep, la quale l'aveva abbracciata in segno di consolazione, e poi da Leila, che le aveva rivolto parole piuttosto dure per il dolore inflitto a Kemal. Riflettendo su questi ricordi, Nyan chiama Zeynep, con cui sembra aver mantenuto una solida amicizia, per chiederle se Kemal è tornato a casa. Zeynep nega, portando Nyan a ipotizzare di aver commesso un errore al molo, pensando di averlo visto. Quindi si danno appuntamento per vedersi al più presto. Successivamente, Zeynep telefona a Salih, l'amico di Kemal, con cui ha una storia d'amore, per chiedergli se suo fratello sia tornato, ma Salih nega. Nel frattempo, Kemal si fa lasciare dall'autista davanti alla casa di Leila. Una volta dentro, racconta a Leila di aver visto Nyan al molo, e di essersi reso conto di non aver perso né la rabbia né l'odio nel corso degli anni. Lei gli chiede se è davvero sicuro di averla dimenticata. Proprio in quel momento, bussa alla porta a Nyan, tremante dal freddo. Leila la invita ad entrare per non rischiare di ammalarsi, mentre Kemal si nasconde. Nyan racconta a Leila di aver visto Kemal sott'acqua, e di essere passata da lei perché sa che, se Kemal fosse tornato, sarebbe andato proprio da Leila. Leila le chiede cosa cambierebbe per lei se Kemal tornasse, e Nyan risponde che cambierebbe tutto, confondendola e mettendo a rischio il suo matrimonio. Leila, ancora dura, le dice che probabilmente Kemal l'ha dimenticata, e che, anche se tornasse, non dovrebbe più importarle. Nyan le dà ragione, ammettendo di non essere pronta ad affrontare il ritorno di Kemal. Quindi se ne va, mentre Kemal ha ascoltato tutto. Rivolgendosi a Leila, dice che comprende che Nyan non vuole mettere a rischio la sua stabilità. Quando Nyan torna a casa, Emir le chiede della caduta in mare, e si lamenta del fatto che lei non lo consideri e lo odi, nonostante lui abbia atteso di essere amato da lei per 5 anni. Le dice che il loro matrimonio è colpa dei genitori di lei, che hanno scelto di sacrificare la sua felicità per evitare che suo fratello Zan finisse in prigione, e l'hanno venduta. Nyan si infuria e lo schiaffeggia, maledicendolo. Emir le dice che, da quel momento, il loro matrimonio dovrà essere reale, altrimenti suo fratello finirà in prigione. Il giorno seguente, mentre Zeynep cerca un vestito, trova Kemal addormentato nella stireria, la sua vecchia camera. Urla di gioia, attirando l'attenzione della loro madre, del fratello maggiore, e del padre, che accorrono ad abbracciarlo con gioia e affetto. Nel parco, Nyan corre spogando il suo turbamento, finché non si ferma esausta e si siede, lasciandosi andare alle lacrime. Viene avvicinata da una bambina che le offre un pacchetto di fazzoletti, notando il suo pianto. La piccola, con innocenza, le chiede se sta piangendo per una delusione amorosa. Nyan, annuendo, confessa di aver vissuto una separazione 5 anni prima. La bambina le fa notare che sembra piangere da quando lei è nata, poiché ha 5 anni, e la incoraggia a fare pace. Tuttavia, Nyan le spiega che non è così semplice, che ha dovuto fare delle scelte per proteggere suo fratello, ma non può dirlo a Kemal. A casa, Bill Dunn discute animatamente con suo marito Onder, dopo aver letto un altro articolo sul giornale riguardante Emir e la sua amante Bano. Bill Dunn accusa sua figlia Nyan di non prendersi cura del marito, mentre Onder difende la figlia, sostenendo che Emir dovrebbe essere più discreto nei suoi rapporti extraconiugali. Sottolinea anche il malessere di Nyan, evidente sul suo volto, ma Bill Dunn gli intima di non turbare la tranquillità della famiglia, sostenendo che Nyan sembra invece a suo agio con la situazione. Kemal è con la sua famiglia, e spiega loro che è tornato a Istanbul per partecipare a una importante gara d'appalto, rappresentando la sua azienda. Poi, la famiglia si riunisce a tavola per la colazione, e Tari che tiene tra le mani il giornale con le notizie su Emir. Tutti esprimono il desiderio che persone come Emir e Nyan rimangano lontane da loro e da Kemal. Nel mentre, Kemal riceve una telefonata da un uomo di Emir, che lo informa che Emir desidera incontrarlo quel pomeriggio al club alle 5. Lo stesso club dove, 5 anni prima, a Kemal era stato negato l'accesso quando Nyan lo aveva invitato per presentargli suo fratello Ozan. Intanto, Emir sta raccogliendo informazioni su Kemal, e scopre che il signor Akhil lo ha nominato suo socio dopo l'incidente, e ora Kemal è il direttore della miniera. Ma Emir commenta che lo considera ancora un novellino. Durante la colazione, si discute del futuro di Kemal. Sua madre si chiede se abbia trovato una ragazza, ma lui risponde che al momento non pensa al matrimonio. Sua madre gli dice di non pensare più a Nyan, di guardare avanti e dimenticarla, poiché tutti sanno bene che Kemal se n'è andato a causa sua. Nello stesso momento, a casa Sezin la famiglia si è riunita, e si discute su come festeggiare l'anniversario di matrimonio di Nyan e Emir. Gallippi incoraggia anche Nyan ad avere bambini, un desiderio che entusiasta sia lui che Vidan. Tuttavia, Onder e Ozan notano la falsa felicità dipinta sul volto di Nyan, un sorriso che sembra essere solo una maschera per nascondere le sue vere preoccupazioni. Poco dopo, Onder ha una conversazione privata con Galip. Gli mostra gli articoli di giornale che parlano dei tradimenti di Emir, e gli confessa che questi comportamenti rendono triste Nyan. Galip cerca di giustificare Emir, sostenendo che potrebbe essere confuso. Ma l'importante è che torni sempre da sua moglie. Dice a Onder di non pensare di rovinare il matrimonio di Emir, poiché tutto ciò che hanno, lo devono proprio a Emir. Dopo la colazione, Kemal accompagna a scuola sua sorella Zeynep con la macchina dell'azienda. Lungo il tragitto, incontrano Salih, e Kemal decide di fermarsi per salutarlo. Salih, felice di rivederlo, lo abbraccia calorosamente, e Kemal gli spiega che deve portare Zeynep a scuola, e che, dopo aver concluso degli affari, andrà a trovarlo al lavoro. Durante il tragitto in auto, Zeynep confida a Kemal che Nyan l'aveva chiamata per sapere se lui fosse tornato, ma Kemal le chiede di non dire a Nyan che lui è lì, e Zeynep promette di mantenere il segreto. Dopo aver salutato sua sorella, Kemal la lascia scendere dall'auto, e subito dopo, Zeynep sale sulla macchina di Nyan, e insieme si dirigono dal parrucchiere. Una volta finito dal parrucchiere, Zeynep si allontana un momento. Il suo cellulare suona, e Nyan, leggendo il nome di Kemal sullo schermo, decide di prendere la chiamata. Anche se non pronuncia una parola, un sorriso triste le appare sul viso mentre ascolta la voce di Kemal, il quale si lamenta della mancanza di segnale al telefono, mentre dà istruzioni all'autista per recarsi al club. Nyan si rende conto che lui è ad Istanbul, e si arrabbia con Zeynep per non averle detto nulla. Kemal arriva al club, si siede al tavolo, e aspetta Emir, che arriva volutamente in ritardo. Emir non gli stringe nemmeno la mano, e si siede con aria altezzosa, chiedendogli come sia la vita tra le rocce. Kemal, rimanendo in piedi, risponde che sono luoghi dove vive la gente modesta, dove il tempo è un bene prezioso, e la puntualità è fondamentale. Aggiunge che non riesce a vedere nulla in Emir che possa adattarsi a quei luoghi, e gli fa notare che ha dovuto aspettarlo, facendogli perdere del tempo prezioso. Senza aggiungere altro, si allontana, suscitando l'irritazione di Emir. Bano, l'amante di Emir, raggiunge Nyan, e le assicura che gli articoli sui giornali sono solo bugie, ma Nyan le dà poco retta e se ne va. Bano chiama quindi Emir, e gli riferisce che Nyan l'ha insultata e ha urlato di gelosia, e chiede ad Emir di divorziare, perché non sopporta più la situazione. Emir, tuttavia, si rallegra nel sapere che Nyan è gelosa di lui. Nel frattempo, Nyan si reca al laboratorio, e confida alla sua amica Yasemin che Kemal è tornato, e che, sentendo la sua voce, si è sentita come se fosse stata frantumata in mille pezzi. Yasemin le consiglia di dimenticarlo, poiché se Emir lo venisse a sapere, renderebbe loro la vita un inferno. Quando cala la sera, Kemal si reca al mono per incontrare il suo amico Salih. Mentre parlano di un'eventuale fidanzata di Salih, notano la presenza di Nyan che li sta osservando da poco lontano. Quando Kemal si gira per guardarla, lei tenta di fuggire, ma i loro sguardi si incrociano inevitabilmente per un lungo momento. Tuttavia, questo momento viene interrotto da Emir, con cui lei va via, lasciando Kemal con un turbine di emozioni nel cuore. Quando Kemal torna a casa, chiede a sua sorella Zeynep perché ha rivelato a Nyan che lui è lì. Ma lei gli spiega che Nyan aveva risposto alla sua chiamata nel pomeriggio, e aveva scoperto così che lui è tornato. Intanto, Nyan rientra a casa e si chiude a chiave in camera, mettendosi a disegnare un nuovo ritratto di Kemal. Poi, affacciandosi alla finestra, scorge Kemal fuori, e quindi esce. Lo ritrova davanti a sé, e il cuore le batte forte nel petto. Kemal, con uno sguardo serio, le chiede perché è andata al molo quella sera. Nyan risponde che lui le mancava, e lui, dopo averle accarezzato il viso e averla baciata, le dice che magari l'ha dimenticata, che l'amore è finito, e ora rimane solo l'odio. Con le lacrime agli occhi, Nyan gli confessa ancora tutto il suo amore. Tuttavia, la mattina seguente, Nyan si risveglia sul letto, con la voce di Emir che bussa alla porta. Corre ad aprire, e lui le ordina di non chiudere mai più a chiave. Mentre Emir si reca al lavoro, Nyan esce in giardino e nota un aquilone, ricordando quando, cinque anni prima, Kemal le aveva insegnato a far volare un aquilone. Sorride, piena di speranza, ma la delusione la avvolge quando vede che è guidato da due bambini, perciò torna a casa, rattristata per la sua ingenuità. Mentre torna a casa, Nyan incontra Leila, la quale la vede piangere, quindi la abbraccia e la porta a casa sua. Nyan confessa a Leila di aver visto Kemal la sera prima, e che prima pensava che fosse lui con l'aquilone. Afferma di cercarlo ovunque e di sentirsi al limite della pazzia. Nel frattempo, ha inizio la gara d'appalto per la concessione della centrale termica di Etlikaya. Dopo le offerte, la holding di Emir si aggiudica l'appalto con 250 milioni di dollari, e dopo aver salutato, se ne va con l'usuale aria di superiorità. Invece Kemal chiama il signor Aki per informarlo che Emir ha vinto la gara, e che è pronto per il prossimo obiettivo. Intanto, Nyan confida ancora le sue preoccupazioni a Leila riguardo a Kemal. Leila le consiglia di immaginare cosa direbbe a Kemal se lo avesse davanti, e Nyan ammette che lo supplicherebbe di andarsene, poiché non può andare avanti con la sua vita finché lui resta lì, poiché sente il suo tormento nel cuore. Leila, commossa, la abbraccia amorevolmente e asciuga le sue lacrime. Poco dopo, Emir si trova faccia a faccia con i rappresentanti dell'azienda incaricata dell'appalto per la centrale termica. Gli viene comunicato che, al fine di elevare il livello del loro servizio, hanno deciso di fondersi con un'azienda locale ricca di esperienza, con cui hanno già firmato un contratto. Aggiungono che questo cambiamento comporta anche delle modifiche a livello dirigenziale, di conseguenza, per tutte le questioni relative alla licenza appena acquisita tramite la gara d'appalto. Il punto di riferimento sarà Kemal Soedere. In quel momento, Kemal fa il suo ingresso nella stanza, cogliendo Emir tra la sorpresa e lo stupore. Viene annunciato che Kemal Soedere assumerà il ruolo di partner industriale, e direttore per la Turchia. Kemal suggerisce di discutere i dettagli del progetto, e rivolgendosi direttamente a Emir, commenta quanto sia interessante questa rinnovata collaborazione, sottolineando come adesso Emir si trovi nella posizione di aver bisogno di lui. Emir, tuttavia, rifiuta di ammettere qualsiasi dipendenza da Kemal. Quindi, si alza e abbandona la stanza senza firmare il contratto. Si dirige verso il suo ufficio, dove ad attenderlo trova suo padre Galip. Quest'ultimo, senza mezzi termini, lo incita a firmare il contratto. Sottolinea come non si è disposto a vedere i propri investimenti andare in fumo a causa dell'arroganza di Emir, il quale si trova ora nella necessità di collaborare con quelle persone. Nonostante la resistenza iniziale, Emir viene rimproverato dal padre, che gli fa notare come, per colpa della sua ambizione, abbia pagato il terreno dell'appalto il doppio del suo reale valore, trasformando quello che avrebbe dovuto essere un guadagno in una perdita. Di conseguenza, ora Emir è costretto a firmare, ricordandogli, in tono severo, che l'azienda appartiene a lui, Galip, e non a Emir. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.